Grazie amici, grazie di essere qui, grazie alla Scuola Holden di avermi invitato, non è la prima volta che sono in questo bellissimo posto, in questa aula magna che un giorno la comprerò, la farò diventare un loft e ci abiterò, ma non ho ancora abbastanza soldi per farlo, quindi per adesso mi piace essere qui con voi e in realtà vi leggerò delle poesie, questa non è una lezione, non sono in grado di tenere lezioni in realtà di poesia men che meno, leggerò delle poesie questa sera e funziona così, questa sera vi leggerò delle poesie inedite tra l'altro perché succede che, vedete questo, questo malloppone, è il prossimo libro che uscirà a febbraio in realtà, però ci sto lavorando e vorrei leggervi un po' di poesie che non leggo, che non ho mai letto praticamente, sono inedite e quindi spero che vi piacciono, se non vi piacciono non fatemelo sapere, non è fondamentale per me questo. È un libro che uscirà a febbraio, l'ultimo libro di poesie che ho pubblicato è uscito quattro anni fa, quindi come vedete è un malloppone davvero, io poi sono ipovedente quindi l'ho stampato con caratteri enormi, questa è una roba di sfiga perché non so se ce la farò a tenerlo per un'ora, comunque sia ci tento. Non vi posso dire ancora il titolo di questo libro, anche se c'è scritto qua, infatti se avete una buona vista potete intuirlo, ma preferirei che voi non lo sapeste ancora. È un libro che con un casino di poesie, ve ne leggerò qualcuna, poi vi leggerò anche qualcuna vecchia, è un libro che insomma parla molto d'amore, ma io alla fine scrivo per lo più poesie d'amore, lo ammetto. questo qui è già il libro praticamente, le poesie sono già state messe in ordine e quindi ve ne leggo alcune. Inizio proprio con la prima, che è quella che apre il libro, che si intitola La prima poesia dopo un sacco di tempo. Fa così. La prima poesia dopo un sacco di tempo non parla del cielo, ne manco del mare, non parla di sole, tramonti, di lune calanti, non parla di me. La prima poesia dopo un sacco di tempo racconta le tue piccole tette e dice di film interrotti dai baci e dice che amo dormire dentro i tuoi capelli. E viaggia ai trecento, la prima poesia circondata dai campi di neve e dice, abbi fiducia e dico, mi piacciono sai le tue piccole tette. E poi? Mi piacciono le tue piccole tette, i tuoi pensieri. E siccome mi piace sentirmi ti dire quel che amo di te e ascolta, la prima poesia dopo un sacco di tempo ti dice, ci dice che amo quelle piccole tette che sembrano frutti di marzapane e sono perfette per queste piccole mani che io mi ritrovo. La prima poesia dopo un sacco di tempo volevo sapessi e solo per te. Ecco, grazie, vi ringrazio. Il tenore è questo, è un libro pieno di poesie d'amore, l'avete capito? Questa era una poesia ad alto tasso romantico, è un 9.2, il mio record che è anche il record europeo è 9.7 e c'è qui dentro, non so se ve la leggerò questa sera, questo pomeriggio. Detto questo, mi capita di scrivere molte poesie d'amore, la metto sui social networks e questo mi è utile anche per capire se piacciono. Qualche tempo fa una ragazza ha scritto un commento sotto una di queste poesie, ha detto, ah che bello, che bello un amore così, un amore così mi piacerebbe. Io sono stato ispirato da questo commento, perché mi capita di essere ispirato anche dai commenti su Facebook, lo ammetto. E allora ci ho scritto una poesia, sarà difficilissimo gestire questo malloppone. Si intitola un amore così. Un amore così non esiste, a meno che tu non creda ai draghi, ai maghi, agli elfi, a meno che tu non creda ai demoni, guarda che un amore così non esiste. Un amore così esiste, sì esiste come esistono le fate e le foreste incantate, le astronavi che viaggiano alla velocità della luce, come se adesso tu ti buttassi dalla finestra e rimanessi a galleggiare tra il quinto e il quarto. Un amore così è come se gli americani domattina abolissero la pena di morte in tutti gli stati e i soldati di tutte le guerre, presenti, future e passate, consegnassero le armi, mandando a fare in culo i generali, i colonnelli e pure le mogli dei colonnelli. Un amore così è come le orme nella neve che finiscono nel pozzo di quella foto che io non avevo capito un cazzo, non andavano verso il pozzo, ne venivano e non era manco un pozzo. No, se ti riferisci a quella mia poesia anche lì, credimi, un amore così non esiste. Tu vedimi come il vecchio Salgari, il vecchio disperato Emilio che parlava di tigri e di pirati senza saperne un cazzo. detto questo, vedete io piano piano mi spoglierò, toglierò ogni tre poesie un capo fino a rimanere completamente nudo, tra l'altro. Adesso passo a un piccolo dialogo, un piccolo dialogo che io in questo libro oltre a esserci delle poesie ci sono dei dialoghi, dialoghi ne ho scritti tanti. Il dialogo se ci pensate assomiglia un po' alla poesia a livello grafico, ma non è una poesia chiaramente. Questo è un dialogo d'amore, per lo più sono tutti dialoghi amorosi che parlano, sono dialoghi tra un uomo e una donna, questo è un brevissimo dialogo, in questo libro ce ne sono diversi, questo si intitola DC, cioè DC. In questo caso inizia l'uomo e poi la donna risponde e fa così. Sei la cosa migliore che mi sia capitata negli ultimi tempi? Non sono una cosa, ma si fa per dire. Dillo meglio, sei l'evento migliore che mi sia capitato negli ultimi tempi? Evento? Sì, con un gran bel culo. Approfondisci il concetto di ultimi tempi. DC. Democrazia cristiana? Dopo Cristo. Ok. Vi ringrazio. Sappiate che io vi sto usando come delle piccole indifese cavie. Sto leggendo in effetti poesie che non ho mai letto in pubblico. Questa è una poesia che ho scritto quest'estate. In questo libro ci sono poesie che ho scritto negli ultimi quattro anni, negli ultimi tre mesi ne ho scritte tante in realtà, per questioni di turbamenti amorosi. Questa l'ho scritta a luglio o ad agosto, non mi ricordo. Ero a Firenze. A Firenze dovevo fare un reading in un posto molto bello all'aperto, a una specie di piccolo festival. Si intitola che strano mondo è questo. Ieri sera poi stavo per spegnere una sigaretta su un cane. per errore, mica apposta. Per fortuna poi no. Gli ho chiesto comunque scusa. Lui mi ha guardato con quegli occhi, quegli occhi che solo i cani, quegli occhi che sembrava fosse lui a doversi scusare per essersi trovato nel posto sbagliato, al momento sbagliato, sulla traiettoria diciamo. Poi è arrivata una tipa che mi ha raccontato che una volta un libraio le ha detto, riferendosi a me, questo non è un poeta, è un rapper di merda. E lei ci è rimasta male e io dovrei iniziare a tatuarmi, ho pensato. Mi sono chiesto anche ma esisteranno rapper con la barba e soprattutto per il libraio in questione. Tutti i rapper sono di merda o solamente io? Che strano mondo, che strano mondo è questo dove c'è gente che si sente in dovere di dirti che cosa sei, cosa non sei, cosa devi essere, cosa vorrebbe tu fossi, cosa va bene, cosa non va bene, tu sia. Poi sono salito sul palco, davanti a me c'erano centinaia di persone, davvero tante, mi guardavano, aspettavano qualcosa da me, sembravano contenti, io ero contento, potevo essere quel cazzo che volevo, un poeta, un rapper di merda, un nano da circo, un trapezista. Poi il cane mi ha sorriso e ho iniziato. è successo davvero, quello che vi sto raccontando questa sera è successo davvero, ho già male al braccio ragazzi, dovrò fare un po' di palestra sul braccio destro finché uso questo corso. Comunque, quello che vi racconto quando parlo di cose che succedono sono successe quasi tutte davvero. Adesso a pagina 194 del Malloppone vi leggo una poesia che parla dei, non so bene di cosa parli, non la saprei bene spiegare questa poesia, infatti le poesie non è che debbano essere spiegate, ma io devo prendere tempo per trovare la pagina. Detto questo, questa è una poesia che ho scritto, anche questa non troppo tempo fa, parla dei motivi, parla dei motivi, infatti si intitola Ci sono tantissimi validi motivi. Ci sono tantissimi ottimi motivi per accendersi una sigaretta, ci sono tantissimi buonissimi motivi per smettere di fumare, ci sono tantissimi ottimi motivi per scrivere una poesia e oggi ce ne erano anche tanti di motivi per uscire a farsi una passeggiata. Anche se fuori fa un freddo boia, il cielo era così astutamente azzurro che quasi quasi io ci cascavo. Ci sono tantissimi ottimi motivi perché tu dica la tua adesso, ma sono molti, credimi, i motivi perché tu taccia. Ci sono tantissimi ottimi motivi perché io alzi il telefono adesso e la inviti a bere qualcosa questa sera in quel posto che le piace, quello con le poltrone blu, ma ce ne sono anche parecchi e piuttosto sensati di motivi perché lei mi dica no, meglio di no. Ci sono una discreta quantità di buoni motivi perché io resti solo come un cane e ci sono moltissimi e solidissimi motivi. Perché i cani si incazzino, stufimarci di essere usati per questi modi di dire idioti. Ci sono tantissimi validi motivi per tenere duro, per fare bene ciò che si è capaci, per resistere al brutto, per ingannare la morte, per smettere di piangersi addosso, per non poggere l'altra guancia, per ascoltare buona musica, per mangiare inaudite quantità di pizza, per innamorarsi. Ci sono tantissimi e ottimissimi e buonissimi motivi per chiudere questa poesia qui. Vi ringrazio. Adesso c'è un momento che si chiama il momento dell'interazione con il pubblico, che io odio tra l'altro, però va di moda, quindi devo farvi interagire, è una roba semplicissima, non farò quella cosa oscena di prendere qualcuno di voi e metterlo su questo palco, assolutamente. Però in questo libro ci sono 14 poesie con nomi di donne. Ora non le posso leggere tutte chiaramente, però ne vorrei leggere qualcuna durante questo reading. Adesso sono da 1 a 14. Voi dovete dirmi un numero da 1 a 14. 8. È venuto il nome Cristina. C'è qualche Cristina nel pubblico? Ma tendenzialmente le Cristine sono timide, quindi è normale. Statisticamente una Cristina tra di voi ci deve essere, mi dispiace. Comunque, ma non sarebbe successo nulla se è Cristina che si sta nascondendo, ma io la capisco anch'io, se ci fosse, al contrario, se fosse stata una poesia su nomi di uomini e fosse uscito Guido io non l'avrei detto. Cristina. Cavolo, continua, il tema cane continua, vedete che curiosità. Mi accalappiò Cristina manco che fossi un cane ed io, felice, le porsi il mio collo indifeso, scodinzolando, senza notare, accecato d'amore, l'ascia bipenne ben affilata che fuoriusciva dalla sua borsetta. Accomodai la testa sul ceppo, mentre il mio cuore batteva a tempo con il flip-flap delle sue lunghe ciglia. Fu un attimo. Cristina calò la lama, disse, ti amma. Non seppi mai, e a questo punto poco importa, se si trattava di o o di mazzo. Era un po' triste. Vi ringrazio. Ce ne sono poi altre, ne leggeremo altre sui nomi di donna. Adesso vorrei leggere questa. Questa è una poesia di quelle che non... Io divido le poesie in poesie d'amore, non d'amore e del terzo tipo. Ecco, questa è sicuramente una poesia del terzo tipo. Nel mio primo libro, che si chiama I cani hanno sempre ragione, feci questa differenzazione di poesie. Questa è una poesia del terzo tipo. Si intitola... Ecco, lo tengo così. Bello, no? Così. Da... Si intitola Chiudi bene le finestre. C'è un cecchino? Per contratto ci dovrebbe essere un cecchino che dovrebbe uccidere coloro a cui squilla il telefono. Però costava molto, in effetti, e non l'abbiamo. Però potete spegnere come fossimo in un aereo. Ecco. Che ora fa? Lì da te, che giorno è? È estate? C'è luce? È già notte? Com'è la luna? Il sole picchia? Cosa vedi al mercato? Che frutti vedi quando vai al mercato? Che colori ci sono per strada? Che odori? Che puzze? Che profumi? I tetti? Sono piatti o sono a punta. Ci sono gli alberi, i fiumi, c'è un mare, il lago. Si vedono le montagne? Sei circondata dal cemento, fa freddo, i bambini giocano per strada. E se ti guardi allo specchio? Cosa vedi quando ti vedi dentro lo specchio? Che occhi hai? Sei bella? Sono grandi i tuoi occhi? Come li porti i capelli? Sono sciolti, ricci? Sono corti? Prova a sorridere. Com'è questo sorriso? Sai dirlo? Come sei vestita? Hai un vestito leggero, colorato, verde, blu, maglione pesante? Che scarpe porti? Stai fumando? Sei nuda? Com'è la tua bocca? Da qualche parte c'è qualcuno? Di là, nell'altra stanza, c'è qualcuno che ti vuole bene? Cosa c'è? Ti senti sola? Cosa vedi dalla finestra? Adesso? I rondoni? Volano bassi? Anche qui vuol dire che sta arrivando il temporale. Chiudi ben nelle finestre, sediti, fai un respiro lungo? Se ce la fai, scrivimi una poesia. Vi ringrazio molto. Adesso vi leggerò una trilogia di poesie che si chiama la trilogia della sfiga amorosa. In questo libro ci sono anche poesie di sofferenza amorosa e questa in particolare è una poesia di fine rapporto, una pdf insomma. Funziona così, la scrivi alla fine del rapporto, lo dice la parola stessa. Quindi non bisogna sbagliarsi, magari uno dice che fica sta poesia e la dedica alla ragazza che gli piace. Non va bene. Lo dico perché non si sa mai al giorno d'oggi. Lo dico perché non si sa mai. Si intitola Voglio indietro. Fa così. Voglio indietro i baci che ti ho dati, li ho contati. Sono 1570-900. Parlo solo di quelli sulla bocca, poi ce ne sono 81 e un quarto sulla punta del naso, 40 e 15 sull'occhio sinistro, 60 quacchio sul destro ed altri 300 tondi sul resto del tuo corpo. Voglio indietro le carezze, gli abbracci notturni e diurni. Voglio indietro le parole d'amore, verbi e aggettivi compresi. Voglio indietro gli sguardi dentro gli occhi, i risvegli al mattino, le colazioni felici. Voglio indietro i fiori che ti donai. Non ti ho mai donato fiori? Bene, ora te ne donerò un mazzone, così potrai. Voglio indietro gli anni, i mesi, le ore in cui dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando. Mai. Voglio indietro le passeggiate, le risate. Voglio indietro quel giovedì e quella quasi primavera. Voglio indietro le canzoni e le bestemmie. Ai 20-14 ore da adesso per darmi indietro ciò che voglio indietro. Non mi costringere a chiamare l'esattore di baci. Non ti piacerebbe. Grazie amici. Vi ringrazio, era un po' triste questa. Adesso ve ne faccio una ancora più triste. La fine di un amore si può anche, si può organizzare a livello burocratico. In questa poesia io ho scritto un contratto, si intitola contratto d'amore, ma è un contratto, un contratto d'amore di fine rapporto, anche questo. È una burocratizzazione legale di una fine, di una storia d'amore. Si intitola contratto d'amore, appunto. Come d'accordi ho smesso d'amarti. Come da contratto a partire da oggi non ti sognerò più, non penserò più a te sospirando alla luna, la luna a sua volta smetterà di ridermi in faccia. Non tormenterò povere indifese margherite strappando loro i morbidi petali bianchi. Non camminerò solo per la città, temendo e sperando di incontrarti per caso, riandando ai luoghi dei nostri primi baci. Come d'accordo contrattuale sarò gentile e pacato, sorriderò quando qualcuno mi parlerà di te. E non attenterò alla vita dei bastardi infami che già ora hanno iniziato a corteggiarti. Contrattualisticamente in accordo con le leggi vigenti, mi impegno a smettere di scriverti poesie d'amore o almeno a diminuire, a scalare, che tutto in un colpo è pericoloso. Smetterò poi di desiderare il tuo corpo morbido e profumato. giuro infine che ti farò da amico, saggio e fedele, che detta così sembra un cane, ma vedrai funzionerà. A te solo io chiedo di non credere a una parola di ciò che hai appena letto. Grazie. Ecco, stiamo parlando di una fine, la fine di un amore, ecco. L'ho scritta quest'estate perché ho avuto uno sdrummamento amoroso di un certo livello. Anche questa l'ho scritta quest'estate, nello sdrummamento. È la terza della trilogia della sfiga. Parla delle poesie d'amore, parla delle foto anche. Io non sono un fotografo, non ho mai fatto foto, non ho neanche un telefonino utile a fare delle foto, però parla di questo, parla anche dei viaggi nel tempo, parla di un sacco di cose. Una cosa che amo delle poesie d'amore è che sopravvivono alle storie d'amore, un po' come le foto. Io ho mai fatto foto, io parlo più quasi solo poesie d'amore. Che le poesie d'amore è un po' come le foto, apre il cassetto, la trovi, la guardi. È la foto della ragazza che amavi. Ricordi, l'avevi fotografata tu, quella volta, tu che non hai mai fatto foto, quella foto ti era riuscita particolarmente bene e ti eri dimenticato di avere fatto quella foto dove lei era particolarmente bella, voi eravate particolarmente contenti quel giorno lì e tu sospiri, tu fai dei sospiri che non sembrano mica sospiri, sembra un attacco d'asma. A un certo punto cade una goccia, cade una goccia sulla foto, cade una goccia sul suo viso, tu alzi lo sguardo al cielo ma non piove mica. La goccia l'hai creata tu, è fuoriuscita dai tuoi occhi, si è lanciata in caduta libera sul viso della ragazza in foto che non è più la tua ragazza, forse è la ragazza di qualcuno ma non tua e quel qualcuno in questo momento lo sta fotografando forse o peggio le sta scrivendo una poesia d'amore, speriamo di noi comunque, se le sta scrivendo una poesia d'amore sarà sicuramente una poesia d'amore bruttissima e in ogni caso rileggere una poesia d'amore che hai scritto per la ragazza che amavi è come fare un viaggio nel tempo indietro, può essere un bel viaggio, un bel viaggio di nostalgia, di malinconia a meno che tu, attenzione, a meno che tu non l'ami ancora, se l'ami ancora no, se l'ami ancora in tutta sincerità è un'esperienza di merda. Vi ringrazio. Adesso faccio un piccolo salto indietro nel tempo a proposito di salti nel tempo, di viaggi nel tempo, questo è Ti amo ma posso spiegarti, il libro che forse ha avuto più successo dei libri di poesia che ho scritto, in realtà poi abbiamo scoperto che uno dei motivi per cui ha avuto successo, che leggero che è rispetto a questa cosa qua, bellissimo, rispetto è il titolo, il titolo di un libro è una roba importante, è inutile che ce lo neghiamo, Ti amo ma posso spiegarti, sarete d'accordo con me, è un titolo molto fico. Poi anche la sovracopertina di questo libro di Miraggi Edizioni, non so se conoscete Miraggi ma è una casa editrice di Torino, giovane e coraggioso, questa sovracopertina poi abbiamo scoperto ma questo non era stato considerato, insomma viene utilizzata soprattutto durante le feste pagane così, però vabbè questa è una poesia storica per me perché l'ho scritta tanto tempo fa, ma non so la pagina, dovreste parlare tra voi, perché se no se mi guardate non la trovo perché mi viene ansia, oppure fischietta, ecco l'ho trovata, questa è una poesia appunto che ho letto tantissimo in realtà, ho letto tantissimo, vediamo se la trovo, speriamo che sia veramente pagina 22, no, infatti non è pagina 22, che cosa curiosa, vero? 22 non è pagina 22, dovessi fischiettare, facendo finta di niente, grazie. Davvero ve lo chiedo come un favore personale? Continuatevi prego perché devo cercarlo nell'indice, è un casino. Ok, pagina 16, non so perché lì ci fosse scritto pagina 22, comunque complimenti per il fischiettamento, è discreto, ne ho sentiti di migliori ma pagina 16. Allora questa poesia parla delle donne, non è una poesia d'amore, è una poesia che parla delle donne un po' in generale, è una poesia strana, nel senso che è una poesia divisa in due, cioè inizia a parlare delle donne e poi svacca, ma io per contratto devo leggerla tutta, ho sentito le carte in tavola e fa così. Ho visto donne uscire in lacrime dal proprio parrucchiere, maledicendo tinte, messe in piega, tagli, colpi di sole sbagliati. Ho sempre pensato che i cessi pisciati sia colpa dell'uomo, finché una donna mi ha confessato che per non sedersi, esse, sono in grado di farla stando intrespolate in piedi sulla tazza e spisciazzando tutto. Ho visto donne strapparsi l'odiato vello dei loro corpi morbidi, utilizzando tecniche degne di un inquisitore medievale, soffrendo in silenzio, ho visto gambe traballanti, suttacchi inauditi sfidare le leggi della gravità, dell'equilibrio e del buon senso. Ho avuto più volte la certezza che le borse delle donne siano portali dimensionali verso la sfera dell'entropia. Quasi tutte le donne si guardano di nascosto, su qualsivoglia superficie riflettente, ogni qualvolta si presenti l'occasione per vedere se sono belle. Se l'altra donna non lo fa mai, preoccupati, potrebbe essere una vampira. Da quando sul mio blog ho messo una poesia che si intitola Io ho visto le donne nude, ho ricevuto ad oggi 18.414 visite di gente che cerca su Google donne nude. Contro 18.290 che cerca il mio nome e cognome. La poesia è stata inserita sei mesi fa, il blog è stato aperto cinque anni fa. Io immagino che chi cerca donne nude su internet non possa avere più di dodici o tredici anni. Se avessi avuto internet a dodici o tredici anni mi sarei devastato di seghe. Garantito al limone verde, signori. Mi spiace di essere andato fuori tema. La poesia era iniziata benissimo. Comunque giuro che se leggerò ad alta voce questa poesia davanti a delle persone sensibili o a bambini, non dirò seghe, ma pippe o pugnette, come fanno alla televisione. Io per avere quasi 40 anni ho visto pochissime donne nude vere, pochissime ne ho baciate, pochissime ci ho fatto all'amore. Le tette in assoluto, la mia parte preferita sessuale, gli occhi, quella che cambia le carte in tavola. Vi ringrazio molto. Adesso dobbiamo fare il momento dell'interazione. A questo punto però cambia. Io vi dirò dei nomi di donne. Voi dovete scegliere, sarà difficilissimo perché sono tredici a questo punto. Ora ve le dico e poi dovete dire il nome. Marina, Adelaide, Matilde, Anna, Bianca, Erika, Francesca, Cristina, Chiara, Lucia, Greta, Lisa, Marta, Maria. Non si può fare. Quindi decido io. Facciamo Adelaide. Adelaide è a pagina 30. Adelaide. Adelaide, figuratevi, credeva nell'amicizia tra uomo e donna. Ci credeva davvero. Quando tentai di darle un bacio, Adelaide lo schivò con destrezza e mi disse no. No? No. Ma no no? Sì, no no. Adelaide, siccome per me il no è sacro, non insistei. Le dissi, peccato però. Scriveva piccole bellissime poesie Adelaide. Non le mostrava a nessuno. Quando le dissi mostrale, mi chiese e perché mai dovrei? Non avevo una risposta. Adelaide stava bene, con i capelli corti, mangiava tanto e non ingrassava. Come fai? Le chiese. brucio. Adelaide non guardava i film di paura perché le facevano paura. E poi non dormo, diceva. L'avrei volentieri accompagnata prima, durante e dopo, ma non ci fu modo. Forse non fui capace. Adelaide mi diceva sempre io e te saremo meravigliosi amici. Io sorridevo e le dicevo appena mi scende questa voglia di baciarti. Adelaide, figuratevi, credeva nell'amicizia tra uomo e donna. Ci credeva davvero. Grazie. Allora, film dell'orrore. A me piacciono moltissimo i film dell'orrore, sono un appassionato. Allora, ho scritto una poesia che è in questo malloppone, che ha a che fare con una serie televisiva che probabilmente voi conoscete, dato che tra l'altro qui alla Holden si studia anche il magico mondo delle serie tv. Chiaramente sto parlando di Walking Dead. L'altro giorno c'è stata questa puntata, la prima puntata, forse qualcuno di voi ha visto, abbastanza scioccante. Io ormai sono privo di sentimenti, quindi non ho sofferto più di tanto. L'ho visto però con una ragazza. Lei invece che è sensibile, un po' come Adelaide, ha guardato la puntata almeno il 70% con un cuscino in faccia. Questa poesia parla un po' di questa roba qua. si intitola Io, te e gli zombie. Io, te e gli zombie. Io, te e gli zombie e il divano. Io, te e gli zombie il pop corn e il chinotto. Non ti sembra perfetto? Io, te e gli zombie, il divano, il pop corn e il chinotto. Manca qualcosa? Dici che manca qualcosa? Cosa dici che manca? Baci? Baci dici? Dici baci? Ok. Io, te e gli zombie, il divano, il pop corn, il chinotto, i baci. Qualcos'altro dici? Vuoi farlo? Vuoi farlo adesso? Sul divano? Ma gli zombie? Ma durante gli zombie? Vuoi farlo? Ma sei sicura? Ma non hai paura? Ok. Ok. Io, te e gli zombie, il divano, il pop corn, il chinotto, i baci e fare l'amore. Niente male. Niente male davvero. Qui stiamo rasentando la perfezione. Sai cosa stiamo facendo noi? Rasentiamo. Siamo dei rasentatori di perfezione, amorosa, io e te. Parlo troppo? Smetto? Sto zitto? Hai mai visto uno zombie di sorridere? Ecco. Ringrazio molto. Adesso vi leggerei ancora qualche poesia da qua e ancora da qualche libro. Sì, ci siamo con i tempi. Allora, questa è una poesia in realtà che ho letto, è una poesia d'amore che parla di Torino. È una poesia d'amore ambientata a Torino. Ho scritto pochissime poesie su Torino, ambientate a Torino. In realtà forse due. Una è questa. Ecco, l'ho aperto e si è aperta sulla poesia giusta, ragazzi. Vedi? Sto imparando. Si intitola... Non so se tra di voi quanti sono di Torino, quanti no. Io so che alla scuola Holden c'è molta gente, molti studenti che arrivano da fuori. Questa è una poesia che parla di Torino e parla di un fatto, secondo me. Oltre ad essere una poesia d'amore ambientata a Torino, ma parla anche di un fatto che secondo me è tipico di Torino. Torino è un luogo duro, ma se uno ce la fa a Torino, insomma. Si intitola A Torino non si scherza un cazzo. Fa così. A Torino non si scherza un cazzo, a Milano gira il grano, a Roma è tutto un magna magna, a Napoli poi muori, a Verona t'innamori ma a Torino non si scherza un cazzo. Questa poesia d'amore non è una poesia d'amore perché a Torino non si scherza un cazzo, perché l'amore ai tempi di Torino, perché Torino ha i tempi dell'amore, ma è roba dura, è roba che te la devi faticare, è un amore che ci sta poco da scherzare. Questa poesia d'amore non è una poesia d'amore, è una spada laser. Sì, questa poesia è una spada laser e noi siamo belli e tu hai gli occhi buoni. Buoni non vuol dire stupidi, buoni vuol dire che non si scherza un cazzo e noi siamo due Jedi, io e te abbiamo capito che il lato ganso della forza alla fine è meglio. A Torino fai più fatica qui a Torino perché a Torino non so se è chiaro, a Torino non si scherza un cazzo. Però se ce la fai a Torino e pochi ce la fanno, a Torino se ce la fai poi spacchi i culi, a mani nude, a mani nude legate dietro la schiena, su un piede solo, con un gatto su una spalla, sorridendoli negli occhi, perché anche se voglio io, hai presente la luna, anche la luna Torino è una luna, è una luna che ti giuro, è una luna che non scherza un cazzo. Io la luna, io salgo sulla cazzo di mole, te la stacco dal cazzo di cielo, ammorsi la luna, hai capito? Te la strappo dal cielo, ammorsi, sai cosa faccio? La sputo, la sputo, poi già che ci sono la tiro giù la mole, attestate la tiro giù, chi mi ha rotto i coglioni pure la mole, come la bagna cauda del cazzo, i torelli sputazzoni, comunque volevo solo dire, perché magari non si è mica capito bene, che io a Torino ci vivo, ci muoio, poi ci risuscito, perché qui a Torino non si scherza un cazzo. Vi ringrazio molto. Vi parlavo di dialoghi, ve ne ho letto uno prima, un piccolo dialogo simpatico, questo è un dialogo un po' più lungo ma non tanto di più, è sempre un dialogo in cui i protagonisti sono un uomo e una donna, sono tutti dialoghi reali tra l'altro, non invento quasi nulla, si intitola giostre, le giostre, anche qui diceva un uomo e una donna, inizia la donna a parlare, poi c'è l'uomo, a metà non capirete più chi cazzo sta parlando, però fottetevene, tanto è tutto dentro la mia testa, inizia la donna. Voglio baciarti alle giostre, sulle montagne russe, mentre cadiamo nel vuoto a rotta di collo. Sei coraggiosa, ma occhio che potrei vomitarti addosso, o peggio potremmo spaccarci tutti i denti. Dici? Dico, meglio limonare su un autoscontro parcheggiato. Ma tu mi ami? Sì. Ma quanto? A Madonna Santissima. Quanto è? Tanto. Come funziona? Funziona che quando ti penso? Mi dico, Madonna Santissima, quanto la amo. Sembra una bella cosa, lo è. Da quanto mi ami così? Da prima della guerra. Da prima della seconda? Da prima della prima. Già c'ero? C'eri. Tu c'eri? C'eravamo. Ero bella? Eri bellissimo? Non ricordo, poco importa. Tu non mi chiedi mai se ti amo? Preferisco sentirmelo dire gratis. Facciamo l'amore? Dove? Nel labirinto degli specchi? Sì, da moltiplicarci all'infinito. Nel castello dell'orrore? Sì, da far meravigliare i lupi mannari, vampiri e spettri. Poi mi vinci un premio al tirassegno? Poi ti compro pure tutto lo zucchero filato del mondo. Vi ringrazio molto. Scusate, devo fare un po' così. Adesso volevo leggervi una poesia dall'ultimo libro. L'ultimo libro di poesie uscito sempre per Miraggi, lo capite dalla tipica sovracopertina. È una poesia che parla del dormire, dell'andare a dormire. Abbiamo tutti noi adulti due possibilità fondamentali anche questa sera. Dormire con qualcuno o con qualcuna dormire da soli. Io ho scritto una breve poesia che parla di questo. Si intitola Dormire da solo. Fa così. Dormire da solo hai spazio. Che puoi rotolarti nel letto, che puoi fare le capriole, cunicoli sotto le coperte, metterti a sghimbescio, mangiare i crackers sbriciolosi e d'altro. Ma non puoi accucchiaiarti a un corpo femmina, che gli fai quella cosa spaziale da dietro, che con la mano le prendi la tetta superiore e ti assopisci con il calore della sua schiena sulla tua pancia. E se sei fortunato, i vostri respiri andranno via all'unisono. La tua pancia, la sua schiena, la sua nuca, le tue braccia, i piedi nei piedi che si carezzano, tenendo il tempo della notte, fottendosene del regno dei cieli. Molto bella, lo ammetto. Ammetto che è molto bella, me l'ha detto il mio psicanalista, ammettilo, davanti al pubblico ti servirà. Allora vi leggerei le ultime due, massimo tre poesie. Vorrevo leggervi un'altra. Ditemi un numero da 1 a 14. Brava. E l'ultima. La pagina 273. Ho sbagliato a fare queste fotocopie così, lo ammetto. 273, la 14 e Maria. Era quel tipo di ragazza acqua e sapone, quel tipo da ragazza della porta accanto, quel tipo di ragazza un jeans e una maglietta. Ne aveva 20, dimostrava 17. Quando le chiesi sei legale, rise Maria. E io tonto non mi accorsi del doppio senso della mia domanda. Era quel tipo di ragazza acqua e sapone, ma l'acqua era gelida, il sapone ruvido. Sapeva di piacere, le piaceva. Non le piaceva mai nessuno. Più ti piaceva, meno le piacevi. Sembrava uscita da una canzone di Vasco. Ci baciammo un po', ma non facciamo mai l'amore. Feci l'errore con Maria di innamorarmi lievemente. Durò 24 ore, poi volò via. Ed io rimasi bene ancorato nella terra a salutarla con la mano. Vi ringrazio molto. Vi leggerei le ultime due poesie. La penultima è tratta dal Malloppone. Di Malloppone, a pagina 243, è una poesia che non ricordo più in realtà, però vediamo se vale la pena. Vediamo se vale la pena si parla del... questa è una poesia del terzo tipo. È una poesia che parla di quando uno non sta bene, ma non fisicamente dentro, cioè i turbamenti, diciamo. Si intitola Dopo la pioggia. Ho inventato un metodo per diluire il dolore. Non quello fisico, lì basta una goccia di morfina. Intendo quello spirituale, un complicato sistema di valvole, pulegge, di carrucole, piccole gru. Ci sono binari notturni, carichi sospesi su carroponti illuminati. Ci sono gnomi laboriosi, elefanti da soma, vele spiegate al vento, cascate di lacrime ghiacciate, fuochi, tuoni, ci sono fulmini, le onde del mare, eserciti di formiche che portano grandi molliche di pane sotto la luce della luna in fila ordinata. Ci sono panni stesi colorati tra i palazzi, antichi giardini segreti dove l'ombra e il fresco la fanno da padrona. Ci sono soldati stanchi di combattere, seduti nelle loro trincee, che cantano a bassa voce. Poi ci sei tu che cammini, cammini e schiacci le foglie secche per sentirle crocchiare sotto i piedi e ridi e rido anch'io. Mi chiedo chissà se le piace giocare come i bambini, le pozzanghere dopo la pioggia. penultima, penultima, l'ultima è qua, penultima è qua. parlate tra di voi. Giocate a dama. Allora, volevo leggervi questa qua, tratta da piuttosto che morire ma ammazzo. Ma non mi ricordo più dov'è, non mi ricordo più dov'è. Adesso la trovo. Poi avrei un altro libro. L'ho perso. Può capitare. Può capitare di perdere i libri. libri. È una poesia di quelle che ho letto tanto, anche questa in pubblico. La donna che si baciava con i lupi. È una poesia che parla, a me piace molto parlare di musica, di canzone, mi piace lavorare con i musicisti. Questa è una poesia che è ispirata a quella che io ritengo essere la più bella canzone d'amore scritta negli ultimi 600 anni in Italia. La scritta è un cantautore che voi conoscete, anche se siete giovani, ma lui lo conoscete, conoscete anche la canzone. La poesia si intitola Fuori di metafora e fa così. Capirete di chi stiamo parlando al quarto verso. Volevo salire su, su nel cielo, su, pigliarti una stella, come diceva il cocciantone. Io volevo fare in modo, come diceva il cocciantone, che tuo risveglio non mi potessi più scordare. Cazzo il cocciantone. Lui parlava al sole e alla luna, faceva un sacco di cose per lei, faceva delle robe pazzesche per lei, colorava i muri, costruiva silenzi, secchiate di vernice dappertutto, svegliava tutti gli amanti. Faceva un sacco di robe il cocciantone. Non ho capito perché svegliava tutti gli amanti. Che tra l'altro dormivano gli amanti. Ma tutto il resto è grandioso. Lui correva, ballava, gioia, amore, secchiate di vernice, fiori, primavera dappertutto. Allora io lì mi son detto, beh, alcune cose ce la posso fare, altre no. Salire su nel cielo e pigliarti una stella sarebbe grandioso. Cioè, se io fossi Margherita, se uno mi scrive una canzone così, io sbiello. Giuro, io sbiello, poi non so se Margherita esiste, sia mai esistita, ma Margherita tu sei una delle ragazze più fortunate al mondo. Spero tu te ne sia resa conto ai tempi di Margherita. Margherita. Una stella è una palla di fuoco e gas. Cocciantone. Una stella è una roba spaventosa. Praticamente è una stella è una bomba atomica perenne. Noi la vediamo come un puntolino luminoso, tremolante, ma non puoi, non puoi, ti giuro. Andare su nel cielo? Andare su nel cielo puoi, ma prenderle una stella? No. È pericolosissimo. Stai pronta? Prima sentirai un gran vento, poi vedrai una grande luce, poi ti poserai un gran bacio sulle labbra. Infine, saremo nucleosintetizzati in un'orgia di fuoco atomico, di corpi, di me, dentro di te. Vi ringrazio molto, ringrazio la scuola Holden ancora per avermi invitato, i nostri tecnici. Vi leggo l'ultima poesia, l'ultima poesia che poi è la poesia che chiude il malloppone. La prima si intitolava, la prima poesia dopo un sacco di tempo o qualcosa del genere, questa si intitola l'ultima poesia d'amore prima della fine del mondo. Ve la dedico e vi ringrazio. Fa così. Da un po' che non le scrivo una poesia d'amore e siccome so che lei non ama particolarmente le poesie di guerra, quelle western, le fantascienze, poesie dell'orrore, i sottogeneri insomma. Ho deciso di scrivere una poesia d'amore adesso. Sì, le sto dando del lei. Mi sembra una cosa carina da farsi, soprattutto d'estate, con questo caldo atroce. In questa poesia d'amore faremo finta, io e lei, fingeremmo che manchino pochissime ore alla fine di questo nostro mondo. Potremmo passarle baciandoci, scopando, disperandoci, mangiando, ubriacandoci, danzando, dicendoci ti amo. Sì, ti amo anch'io. Dio che peccato, che spreco, che ne sarà di noi, tremando, ridendo. Ambisco ad essere io colui che scriverà l'ultima poesia d'amore prima della fine del mondo. Gli altri poeti, troppo presi, persi, nello scavarbucchi e rifugio inutili, scomodi, umidi e comunque privi di frigo bar. È aria condizionata. La scriverò per lei, parlerà di lei, dei moltiplici tipi di sorrisi di cui è capace, della sua difficoltà ad amarmi da lontano, della sua portentosa facilità a volermi bene da vicino. Non sarò ricordato per questo. Cazzo, non ci sarà più nessuno a ricordare. Sarà l'ultima poesia d'amore prima della fine del mondo. Servirà a farle dimenticare le spiacevolezze della vita, tipo quando ti rubano il sellino della bici in cortile, tipo la scortesia della gente, tipo la stanchezza, tipo quando ti senti sola. posso darti del tu? Tipo la fine del mondo, tipo che poi il mondo, ma lo facciamo mica finire davvero. Vi ringrazio molto. Spero che vi sia piaciuto. Grazie per avermi fatto da cavie in difese. Vi sono molto grato perché era la prima volta che leggevo queste poesie. Grazie. Grazie.